Allora, nei prossimi minuti vedrò di toccare alcuni dei punti peculiari del problema ipertensione sottolineando alcune caratteristiche proprie del genere femminile relativa a questa patologia. Iniziamo da un caso di una giovane donna da cui troverò alcuni spunti per esemplificare alcuni concetti chiave del problema ipertensione nella giovane donna. Questa ragazza di 36 anni si presenta alla nostra attenzione per il posizionamento di un monitoraggio della pressione arteriosa per riscontro occasionale di valori pressori elevati. L'unica terapia che stava facendo in quel momento è terapia estroprogestinica per irregolarità mestruali in giovane età e poi l'aveva proseguita a scopo anticoncezionale. Il monitoraggio effettivamente conferma valori pressori decisamente elevati durante il periodo diurno. Durante la notte un'assistolica che è appena al di sotto dei valori di norma, mentre l'assistolica rimane elevata con normale profilo sonno-veglia. Nella refertazione del monitoraggio viene appunto confermata la presenza dell'ipertensione arteriosa e viene suggerito, se non già eseguito, uno screening per ipertensione secondaria, ricerca di danno d'organo ed eventuale valutazione specialistica. L'unico consiglio che viene dato per il momento di sospendere la terapia estroprogestinica. La paziente a distanza di alcune settimane esegue la valutazione per ipertensione arteriosa emerge una familiarità da parte di entrambi i genitori per ipertensione arteriosa, non era fumatrice, in anamnesi, irregolarità mestruali e lieve acne, per cui aveva iniziato l'assunzione della terapia estroprogestinica, proseguita poi nel tempo a scopo anticoncezionale. La pressione arteriosa in clinica risulta leggermente più bassa rispetto a quanto riscontrato al monitoraggio. Ricordo che la paziente aveva già sospeso da alcune settimane la terapia estroprogestinica. All'esame obiettivo nulla di rilevante se non un click mesotelesistolico puntale che poteva essere compatibile con un prolasso. Viene concluso quindi per un'ipertensione arteriosa in soggetto a basso profilo di rischio vengono consigliate misure igienico-dietetiche, automisurazione della pressione arteriosa a domicilio, ribadita l'importanza della ricerca di forme secondarie vista alla giovane età, valutazione di danno d'organo e si consiglia di mantenere sospesa la terapia estroprogestinica. Questo è il tracciato eseguito al momento della visita che non mostra segni di ipertrofia ventricolare sinistra, quindi assenza di danno d'organo a livello cardiaco. Le linee guida relativamente allo screening per ipertensione secondaria suddividono le cause di forme secondarie tra forme più comuni e meno comuni. Tra le forme più comuni patologia parenchimale renale estenosi delle arterie renali con il particolare sottotipo di fibrodisplasia muscolare che è estremamente più frequente nel sesso femminile, entrambe ingaddagate con Doppler renale, iperaldosteronismo primitivo che ha delle caratteristiche biomorali abbastanza peculiari, cause meno comuni, feocromocitoma e sindrome di Cushing che hanno delle stigmate cliniche abbastanza caratteristiche. La paziente esegue gli esami amatochimici, ha un profilo metabolico sostanzialmente normale, eccetto una lieve dislipidemia, non presenta danno d'organo a livello urinario, lo screening ormonale per ipertensione secondaria, renina, aldosterone, cortisola, CTH, metanifrinorinarie e anche l'assetto tiroideo risultavano normali. Esegue anche l'ecocardiogramma che, come avrà già evidenziato dall'ECG, non mostra ipertrofia ventricolare, si conferma il reperto auscultatorio del prolasso mitralico. La paziente esegue anche il Doppler delle arterie renali che esclude stenosi a carico delle stesse e mostra normali indici di resistenza renale. Perché abbiamo consigliato di sospendere la terapia estroprogestinica? Cosa ci dice la letteratura relativamente all'associazione tra ipertensione arteriosa e sviluppo di soggetti che assumono terapia estroprogestinica? La letteratura ci dice che l'uso dei contraccettivi orali è associato a un piccolo ma significativo incremento dei valori pressori e del rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, che si attesta circa al 5% dei soggetti che la utilizzano. Il rischio di sviluppare ipertensione si riduce rapidamente, non appena viene cessata la terapia estroprogestinica. Le linee guida raccomandano quindi che per l'inizio di una terapia estroprogestinica devono essere valutati attentamente rischi e benefici individuali in quella singola paziente. Sicuramente non è raccomandato l'utilizzo in donne che hanno valori di pressione non controllata e nel caso di ipertensione la cessazione della terapia può portare, come è successo nel caso della nostra paziente, a un miglioramento del controllo oppressorio. Sicuramente va prescritta come estrema cauzione nelle donne sopra i 35 anni e che hanno un fattore di rischio come il fumo. Da dire che i dati della letteratura si rifanno a estroprogestinici di prima e seconda generazione e le linee guida nella parte che tratta sul terapia estroprogestinica nelle donne suggeriscono che l'utilizzo degli estroprogestinici di terza e quarta generazione abbia un minor rischio di ipertensione arteriosa in particolare se viene utilizzato il drosperidone che in alcuni studi ha dimostrato un calo di pressione arteriosa sistolica fino a 4 mm di mercurio. Quindi un dato leggermente in contrasto rispetto all'aumentato rischio che viene riportato anche nelle linee guida dell'ipertensione arteriosa di tromboembolismo venoso. Questo è uno degli studi a cui si rifanno le linee guida per dimostrare gli effetti dannosi della terapia estroprogestinica sulla pressione arteriosa. Sono state studiate circa 700 donne nello studio Prevent con uno screening di 4 anni e si sono valutati diversi parametri come questi variavano nell'arco dei 4 anni. È stato evidenziato come nelle donne che iniziavano terapia estroprogestinica le donne arrollate avevano un'età tra i 28 e i 75 anni avessero un incremento significativo di pressione sistolica, diastolica un incremento significativo della microalbuminuria e una riduzione significativa del filtrato glomerulare. Viceversa, nelle donne che la sospendevano si aveva una riduzione dei valori pressori e della quantità di microalbuminuria mentre non c'erano variazioni significative per il filtrato glomerulare. Ritornando al caso della nostra paziente si può concludere per un caso di semplice ipertensione essenziale con un rischio aumentato legato alla terapia estroprogestinica andando a ripensare un attimino alle caratteristiche della nostra paziente era una giovane donna con irregolarità mestrali aveva una lieve acne una storia di acne si potrebbe pensare alla sindrome dell'ovaio policistico questa è una patologia endocrina che interessa le donne in età fertile circa nell'8-10% dei casi è una patologia legata a un eccesso di androgeni le linee guida della società endocrinologica per la diagnosi portano che deve essere necessaria la presenza di almeno due dei tre criteri diagnostici dopo aver escluso tutta una serie di cause endocrine e non che possono giustificare le caratteristiche cliniche di questa patologia i criteri sono la presenza di un iperandrogenismo evidenziato o da un punto di vista clinico per presenza di orsutismo acne o alopecia o per parametri biomorali deve essere poi presente oligo o amenorrea o la presenza di un ovaio policistico documentato ecograficamente con la presenza di almeno 12 cisti che siano di dimensione tra i due e i nove millimetri importante tenere presente la sindrome dell'ovaio policistico perché come vedete si associa a una serie importante di comorbidità che vanno dalle semplici manifestazioni cutanee a quadri più importanti come infertilità complicanze gestazionali cancro andriometrale tutta una serie di complicanze metaboliche depressione e sindrome delle apnee notturne ritornando alla nostra paziente esegue una valutazione endocrinologica che vista la presenza di acne, di oligo orrea vista la documentazione ecografica delle cisti vista la normalità dei parametri endocrinologici che potessero giustificare tali manifestazioni cliniche viene concluso per una diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico viene indicato come possibile per la patologia dell'ovaio policistico il trattamento con terapia estroprogestinica che d'altro canto però è controindicata per l'ipertensione arteriosa e quindi viene concluso che lo spironolattone potrebbe essere un farmaco che potrebbe avere una duplice valenza da una parte utile per il trattamento dell'ipertensione arteriosa dall'altra un effetto simile antagonista androgenico e quindi potrebbe giovare sul problema dell'acne dell'iperandrogenismo legato alla sindrome dell'ovaio policistico tuttavia nelle donne si può scegliere uno qualunque dei farmaci antipertensivi come viene fatto negli uomini cosa ci dicono le linee guida al riguardo? le linee guida fanno un commento come è stato fatto anche per tante altre patologie sulla scarsità dei dati nel genere femminile intanto la rappresentazione del sesso femminile negli studi randomizzati e controllati che valutano l'efficacia della terapia entroprogestinica della terapia antipertensiva sul rischio cardiovascolare in questi studi la rappresentanza delle donne è solo del 44% e tra questi solo il 24% degli studi riporta dati genere specifici su questi pochi dati che abbiamo pare esserci una parità di effetto delle diverse classi di farmaci pertensivi a protezione cardiovascolare tuttavia c'è un caveat da fare cioè nelle donne in età fertile che vorrebbero andare incontro a una gravidanza attenzione al farmaco che si sceglie perché gli ac inibitori e gli antagonisti recettoriali dell'angiotensina hanno un effetto teratogeno quindi da questo caso clinico i tre spunti principali e tra le riflessioni da fare che di fronte a una donna in età fertile con problemi di pressione sono innanzitutto che la terapia estroprogestinica in alcuni soggetti può favorire ipertensione arteriosa e un aumentato rischio cardiovascolare pertanto nella sua prescrizione è necessario ponderare attentamente i rischi e benefici tra le forme di ipertensione secondaria qualora la clinica ne ponga il sospetto è importante tenere in considerazione anche la sindrome dell'ovaio policistico e che nelle donne in età fertile bisogna sempre fare un'attenta prescrizione della terapia tenendo conto della volontà della donna di una possibile gravidanza proseguendo nella nostra carrellata del problema di ipertensione nel genere femminile non si può non parlare di una patologia importante cioè dell'ipertensione in corso di gravidanza l'ipertensione può andare a complicare il 6-8% delle gravidanze dando dei problemi importanti di mortalità intrauterina morbidità e mortalità neonatale e si può complicare con alcune forme di patologie importante come l'eclampsia e la sindrome ELP per quanto riguarda il tipo di disordini ipertensivi in gravidanza questa è la classificazione esistono forme di ipertensione preesistente quindi ipertensione che compare prima della ventesima settimana gestazionale e che persiste oltre la 42esimo giorno postpartum oppure un'ipertensione gestazionale che viene diagnosticata oltre la ventesima settimana di gestazione e si risolve entro il 42esimo giorno postpartum si può sovrapporre in gravidanza un quadro di preeclampsia quando nelle proteine quando nell'esame urina della donna vengono riscontrate più di 0,3 grammi proteine e die oppure ci può essere un'ipertensione preesistente che si può complicare con preeclampsia per quanto riguarda il cut off della misurazione della pressione arteriosa nella donna per quanto riguarda la pressione arteriosa clinica si parla sempre come diagnosi di ipertensione per valori superiori o uguali ai 140-90 le linee guida sono invece le diverse linee guida non sono in accordo su quali cut off identificare per iniziare il trattamento della patologia antipertensiva nella donna ci sono varie disparità a seconda dei diversi stati molto utile nella donna può essere anche e non solo nella donna in gravidanza ma comunque sicuramente anche il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore utile nel discernere tra le forme di ipertensione white coat e le forme di ipertensione reale da tenere presente che in questo caso i cut off utilizzati per la diagnosi di ipertensione sono diversi da quelli utilizzati nella popolazione generale e variano anche a seconda della settimana gestazionale abbiamo parlato di preeclampsia questa è una patologia che parte come un danno a livello placentare legato a un'ipoperfusione placentare diventa poi una vera e propria sindrome sistemica con importanti danni come vedete coinvolgenza multiorgano da parte della madre e complicanze anche per il feto l'eziopatogenesi è legato a un rimodellamento inefficace dei vasi placentari che portano a un'ipoperfusione placentare con ipossia attivazione di citochine pro-informatorie squilibrio tra fattori pro- e anti-angiogenetici con esito terminale di disfunzione endoteliare e disfunzione poi quindi multiorgano ricaduta su molteplici organi esistono dei fattori di rischio quindi elencati tra fattori di rischio elevati e moderati punto di domanda sulla procreazione medicalmente assistita perché dipende dalla tecnica con cui questa viene effettuata quindi il suo peso varia a seconda del tipo di tecnica utilizzata la presentazione clinica della preeclampsia può andare da semplice dolore nausea vomito a forme molto più importanti come coinvolgimento neurologico stroke tia cecità corticale di stacco di retina coinvolgimento epatico con insufficienza epatica che può arrivare fino alla rottura insufficienza renale che può necessitare di dialisi complicanze cardiorespiratorie come edemi polmonari acuti infarto e poi forme molto temibili come la coagulazione intravasale disseminata e la sindrome ELP per quanto riguarda il trattamento dell'ipertensione in gravidanza analogamente a quanto detto per la donna in età fertile non tutti i farmaci sono utilizzabili ci sono dati in letteratura sono su alcune classi di farmaci che risultano sicuri in gravidanza e sono la metildopo quello su cui c'è la maggior parte di letteratura la betalolo e nifedipina che è l'unico calcio antagonista testato nelle donne in gravidanza un calvat va fatto per i betabloccanti perché se utilizzati nella fase nel primo trimestre nel primo trimestre di gravidanza può dare ritardo di crescita fetale e lieve ipoperfusione placentare anche i diuretici da utilizzare con attenzione perché potrebbero dare una riduzione del volume plasmatico ovviamente sono controindicati nella maniera più assoluta i farmaci che agiscono sul sistema rinangiotensina aldosterone in quanto teratogeni per quanto riguarda il trattamento della preeclampsia dati in letteratura su un'efficacia ci sono per l'aspirine per l'eparine a basso peso molecolare in prevenzione mentre per quanto riguarda il trattamento questo varia a seconda della presentazione clinica del danno della preeclampsia si può andare da restrizione di liquidi nel caso degli edemi polmonari acuti trattamento antipertensivo magnesio solfato utile nelle forme di eclampsia corticosteroidi utili sia per la maturazione polmonare fetale sia utili nella sindrome di ELP nel caso della sindrome di ELP si può utilizzare anche la trasfusione piastrinica e non dimentichiamoci la possibilità del parto abbiamo detto che la preeclampsia è una patologia che ha inizio nella sua ezopatogenesi proprio legata a un'alterata perfusione placentare con il parto il problema ovviamente della preeclampsia si riduce bisogna valutare rischi e benefici in base all'età gestazionale del feto